Ciao a tutti, come sarà il nuovo anno con lui? Chi fosse interessato ad avere una risposta a questa domanda, seguo il video. Nel frattempo iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco e iscriviti al nuovo canale Felicità e Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Allora, mescoliamo le carte, tagliamo, giriamo e tra le tante carte di disposizione ne vado a scegliere 4 casuali. La carta 1, la carta 2, la carta 3 e la carta 4. Ora, pensa a questo lui, del quale vuoi sapere come sarà il nuovo anno con lui e dopodiché scegli la carta 1, la carta 2, la carta 3 e la carta 4. La carta 1, sarà un anno all'insegna dell'ambiguità, nulla di chiaro e niente di definito bene. La carta 2, sarà un anno in cui il legame si consoliderà, si consoliderà molto anche se potrebbe ancora svilupparsi qualcosa in più cambiando un pochino l'atteggiamento. La carta 3, è un atteggiamento in cui ti sentirai di aver subito un torto da questa persona. La carta 4, sarà un anno di fastidi, fastidioso e non grandi fastidi, ma insomma un po' conflittuale. Per questo video è tutto, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Termasco, iscriviti al canale, iscriviti al nuovo canale Felicità Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Ciao a tutti!